Buongiorno a tutti, Vivo Facile, oggi parliamo di un libro e di un tema. Il libro è l'Anatra, la morte e il tulipano, questo caposaldo della letteratura per l'infanzia e parliamo di un tema a cui si rivolge questo libro, il tema della morte. La morte è un tema tabù e lo è prima di tutto per noi adulti nella nostra società, perché la morte al giorno d'oggi sembra quasi un elemento lontano, un elemento dai contorni sfocati, grazie al cielo abbiamo la possibilità di poter vivere quasi tutti molto a lungo, i progressi della scienza sono stati immensi negli ultimi secoli e ci consentono di avere un'aspettativa di vita molto alta, però proprio questo non venire a contatto quotidiano con la morte ci fa sicuramente allontanare dalla consapevolezza che essa fa parte della nostra esistenza e ne abbiamo paura, abbiamo paura anche a parlarne e invece è molto importante che ne parliamo per noi e anche per i nostri figli. Esistono tanti modi di affrontare con i bambini il tema della morte, ma soprattutto quando dobbiamo affrontarlo? Io diciamo che pur non essendo né pedagogista né sociologa né psicoterapeuta, ho pensato che il momento giusto per affrontare un tema con i bambini è quando loro incominciano a fare delle domande in merito, poi è chiaro che sta a noi innanzitutto rispondere sempre e farlo in maniera consona al loro linguaggio, alla loro capacità di comprensione e quindi trovare noi diciamo il modo per spiegarla nella maniera più giusta possibile e nella maniera più, ripeto, consona all'età. Maniera più giusta in che senso? Nella maniera secondo me più vicina alla realtà. Quando i miei bambini, magari all'età di 3-3 anni e mezzo, che è l'età in cui ho notato, incominciano a porsi delle domande basate sull'osservazione, mi facevano appunto la domanda perché il pesciolino non c'è più, non si muove, perché la mosca o l'insettino che abbiamo trovato al parco non si muove. Ecco, io davo una risposta che secondo me loro comprendevano, ovvero dicevo che il pesciolino e l'insettino avevano avuto una vita molto lunga e bella, poi ad un certo punto i loro organi, il loro corpo era molto stanco e quindi si era spento come in un sonno continuo. Era come dormire, ho spiegato loro. E questa spiegazione fino a quell'età sicuramente era quella che a loro bastava in maniera diciamo tranquilla, ecco, se la facevano bastare. Poi crescendo sono arrivate altre domande, dove finisce il corpo, come mai lo seppelliamo, eccetera. Beh, a quel punto io mi rifacevo ad una risposta molto bella che diede a Margarita Hack quando le chiesero cosa c'era secondo lei dopo la morte, cosa sarebbe accaduto dopo la morte e lei rispose, beh, io penso solo che quando morirò semplicemente il mio corpo, i miei atomi, le mie molecole, torneranno a circolare liberamente nell'universo e si riaggregeranno ad altre cose. Ed è un po' questa risposta che io do ai miei figli. Spiego che magari appunto l'uccellino che nel parco era morto, abbiamo visto morto, diventerà gradatamente con un processo chimico polvere, una polvere magica perché piena di energia, una polvere che si riunirà al terreno e darà nuovo impulso alla natura per creare nuove piante, nuovi alberi, eccetera. E io ho visto che questa risposta vera e serena tranquillizzava molto i bambini, li faceva sentire diciamo esauditi nel loro desiderio di risposte e poi hai una risposta assolutamente anche vera, scientifica. Chiaramente non esiste solo la risposta scientifica da dare ai bambini, esiste anche una risposta di tipo religioso per chi crede e allora lì è chiaro che ogni genitore deve in qualche modo approfondirla a seconda di quello che è il suo credo, la sua credenza. Ma esiste anche una risposta che secondo me come quella scientifica va affrontata e va bene per tutti ed è semplicemente la risposta della familiarizzazione con la morte, quindi della morte come parte della nostra esistenza. E questo è quello che fa questo libro, rendere la morte familiare, rendere la morte come parte della nostra vita e in qualche modo dare impulso ad una discussione, ad un dibattito con i bambini in merito anche ai metodi con cui noi possiamo elaborare la morte di qualcuno a noi caro. E questo secondo me è fondamentale. Noi nella nostra vita affrontiamo dei lutti che non sono soltanto relativi a delle morti, ma i lutti possono essere di tanti tipi. Ebbene, secondo me imparare fin da piccoli a sapere che esiste un angolo, che esiste un modo per elaborare questi lutti è fondamentale. Significa dire al bambino che può piangere quanto vuole per l'animaletto che magari non c'è più, per il nonno, per le persone care che ha perso, che ne può discutere, che può parlare del loro ricordo, che può celebrare quello che sono stati in vita. Ecco, questo libro apre a quel tipo di strada, a quel tipo di dibattito con i nostri bambini, che ripeto, secondo me è fondamentale. Ma ora vi faccio vedere alcune immagini dell'anatra, la morte e il tulipano. Vedete, la morte viene presentata come familiare. Ecco qui l'anatra bianca che parla con la morte e la morte sembra, anzi viene proprio presentata come gentile. Nelle pagine che voi poi vedete c'è appunto questi discorsi tra la morte e anatra pochi giorni prima che l'anatra muoia, l'abbraccio, i giochi nell'acqua, le riflessioni. Ecco, tutto questo ci fa e fa prendere al bambino confidenza e familiarità con una figura che viene sempre, viene quasi sempre presentata come brutta e cattiva. Ma l'intensità e la bellezza di questo capolavoro ci viene presentata chiaramente nelle ultime pagine che io ora vi vado a leggere proprio per farvi capire la delicatezza, la familiarità con cui la morte viene presentata in questo libro. Una neve leggera scendeva piano nell'aria. Era accaduto qualcosa. La morte guardò l'anatra. Non respirava più. Giaceva immobile. Le lisciò un paio di piume che le si erano appena arruffate e la portò al grande fiume. Qui la adagiò delicatamente sull'acqua e le diede una spinta lieve. La seguì a lungo con lo sguardo. Quando la perse di vista, la morte quasi si rattristò. Ma così era la vita. Ecco, così era la vita. Il fatto che la morte faccia parte della nostra vita. Non dobbiamo dimenticarlo noi. Non dobbiamo far sì che i bambini perdano questo importante insegnamento. E ripeto, io credo che questo libro sia meraviglioso. Io lo leggo volentieri proprio da adulta e lo leggo volentieri con i miei figli. Quindi secondo me è un capolavoro da custodire gelosamente nella propria libreria. Io adesso vi voglio lasciare con una bellissima frase. La morte ci può insegnare tante cose. E tra queste, diciamo, una che secondo me ci trova tutti d'accordo è quella appunto che questa frase che ho letto riporta. E dice così. La morte ci ricorda l'urgenza di amare. E con questo vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Grazie per avermi seguito. Buona giornata.